Settima giornata, Skull Cup Vittorini Sfida per la salvezza tra chiave e tiri che non rispettano il loro nome Conto Atletic Napoli Vediamo finalmente in campo Lombardi e Marco Pasture Ma no, no, quanto è bello Come si frisca, mamma mia Come si frisca, mamma mia Capitano, per favore Capitano No, non ti buco, mi dispiace Scegli il fischietto, scegli il campo Palla a te, scegli il campo a te Prego a scegliere Ok ragazzi Va bene, è andata, let's go Settima giornata, Skull Cup Vittorini Abbiamo qui Atletic Napoli Contro, chiave e tiri Sfida per la salvezza Sfida per la salvezza Sfida per la salvezza Sfida a te, scegliere Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, il numero. Eccolo, il nuovo pellone. Borrelli. Bellissimo, Borrelli. Borrelli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.